Oggi 30 marzo 2023, guardate che bel scenario, o di fronte a me, ma guardate bene le case di una volta di Luino. Infatti sono in via Felice Cavallotti, proprio qui in questo momento ad ammirare la bellezza di questa via, dove hanno esposto delle ombrelle, tutte color rosso, ma guardate che belli, che bei negozi, la lavanda e tutto, come debita bene questa via, per far che la gente che passi possa essere attratta dall'attenzione di un piacere visivo. Ma guardate bene, qui si mangia benissimo, 15 euro, primo, secondo, bere tutto, già fatto, già fatto, ma guardate cosa vedo, cosa vedo. E devo dire che oggi sono lieto di aver scoperto questo luogo, anche caratteristico storico, dell'interno della città di Luino, dove il mio fluido esistenziale è sempre nel senso di escursionismo, alla scoperta di un ciò che io posso trarre esito positivo, in quanto sono capace a essere un girovago ed esplorare il mondo, il mondo che mi circonda nella mia piccola grande Lombardia, dove ogni giorno io ritraggo sensi positivi per la mia parte di felicità interiore. Ecco qua, va che bello questo portico qua. Avere una casa Luino è un qualcosa di fantastico, sì, perché sia anche vicino al Lago Maggiore, si può prendere il battello e passare nella parte piemontese, dove si può andare anche a Locarno, nella parte svizzera, e prossimamente vado, sì, prossimamente io vado, sono un girovago, un girovago l'importante è capire le emozioni, le sensazioni che l'habitat può dare all'essere umano, Aldo.